Sono accusati di aver comunicato in anticipo ai gestori l'arrivo di alcune ispezioni nel centro di accoglienza per migranti di Kona e di aver poi dichiarato il falso alla Commissione parlamentare e alla cabina di regia sull'immigrazione. I due ex prefetti di Venezia, Domenico Cuttaia e Carlo Boffi Farsetti, alla guida della prefettura lagunare tra il 2012 e il 2018, periodo più caldo dell'emergenza sbarchi. La procura di Venezia ha chiuso le indagini sulla gestione del centro che ha terminato la sua attività lo scorso dicembre, gestione che era affidata alla cooperativa Edeco e Cofficina di Padova. 12 gli indagati ai quali è stato notificato in queste ore l'avviso di chiusura indagini, tra questi anche due vice prefetti di Venezia, Vito Cusumano, poi diventato commissario del governo per la provincia di Bolzano, e la veneziana Paola Spatuzza, sotto inchiesta con i medesimi capi d'accusa. Indagati anche altri tre funzionari, Rita Francesca Conte di Preganziol, Gabriele Ballarin di Pellestrina e Luciano Giglio di Mira, i quali si contesta un'accusa differente, la rivelazione di segreto d'ufficio, anche in questo caso legata a ispezioni annunciate il giorno prima a Cona, ma anche in via Castellana, Mestre e poi Marghera e Dolo. L'altro ramo dell'inchiesta, quello relativo alla frode contrattuale, riguarda principalmente i vertici della cooperativa. Sarà la procura ora a stabilire come procedere e a decidere se chiedere il processo per tutti e 12 gli indagati.